Almeno 20 persone sono morte, altre 74 sono ricoverate in un sobborgo di Buenos Aires dopo aver consumato della cocaina adulterata. Lo hanno annunciato le autorità argentine, lanciando un appello urgente alla comunità attraverso i media. Chi ha comprato droga nelle ultime 24 ore deve buttarla via. La cocaina sarebbe stata tagliata infatti con una sostanza tossica. Da quello che sappiamo, da quello che ci dicono, hanno consumato cocaina con un veleno per topi, spiega la cognata di un uomo ricoverato. Al momento non è chiaro se la cocaina sia stata adulterata per tagliare i costi e vendere di più o se si tratti di un regolamento di conti tra narcotrafficanti. L'allarme è stato lanciato mercoledì mattina quando diversi decessi e ricoveri per intossicazione si sono verificati in tre diversi ospedali della periferia di Buenos Aires. Molti dei pazienti hanno detto ai medici di aver fatto uso di cocaina. Gli investigatori temono che il bilancio delle vittime possa ancora aumentare. Ci potrebbero essere infatti persone che non hanno fatto in tempo a chiamare i soccorsi e la cui scomparsa non è ancora stata denunciata.